Passo la parola al dottor Pietro Pace, che ha portato un curriculum molto personalizzato e dice in prima persona ho perfezionato la mia attività chirurgica in ambito flebologico, chirurgia delle vene varicose e delle ulcere varicose miste e in ambito estetico chirurgia estetica e medicina estetica. Mi occupo anche di medicina nutrizionale. Il dottor Pietro Pace ci parlerà dell'esperienza clinica, la modulazione dell'infiammazione e il ruolo degli acidi grassi essenziali. Bene, allora provo a partire dopo che abbiamo sentito queste bellissime lezioni teoriche di fisica e di fisica quantistica. Io dovrò per forza di cose scendere ai piani bassi e provare a vedere come possiamo noi ogni giorno lavorare con questo nuovo strumento che abbiamo a disposizione. La cosa non è facile, perché è più facile secondo me certe volte fare dei bei discorsi teorici, poi quando si arriva alla pratica le cose sono un po' più complicate. E io adesso cerco di dirvi anche perché le cose sono più complicate. Perché intanto io vi devo parlare di cose che sono veramente anche noiose se volete. Nel senso che si parla, si usano dei termini che già a pronunciarli si fa fatica. Acido linoleico, acido alfa linoleico, acido arachidonico, docoso esenoico, icoso pentenoico, cioè tutte cose che ti fanno venire un po' il latte alle ginocchia. Ma sono cose che poi quando noi abbiamo di fronte un paziente ci permettono di dare delle risposte, di tentare di dare delle risposte. Perché è bellissima la fisica quantistica, ma se a me mi fa male la pancia, o se io sono stanco, se io non digerisco bene, se io ho dei dolori dappertutto, della fisica quantistica me ne può importare fino lì se non riesco a tradurla in pratica. Allora noi proviamo in questo momento a tradurla in pratica. Abbiamo uno strumento fra le mani, secondo me è uno strumento molto buono, molto utile per diverse ragioni. La prima è questa, che quando voi fate delle raccomandazioni generali alle persone, non è buono fumare, non va bene mangiare come è. Non va bene pensare in negativo, non va bene respirare aria inquinata. Sono tutti discorsi che vanno bene, ma sono generali, generalizzati alla persona singola. Non fanno impatto più del dovuto, perché non è una questione personale, è una questione generale. Si va bene, ma se tu gli fai vedere qualcosa che riguarda specificamente quella persona, allora è più facile che lui ti ascolti, ed è più facile che tu possa dare dei consigli su come modificare poi la propria vita. Allora, perché è importante che noi impariamo a conoscere come utilizzare S-Drive? Voglio raccontarvi una piccola storia che mi è successa 15 giorni fa. Viene da me un amico e mi dice, Pietro sono preoccupatissimo, sono andato a fare un ecodopro delle carotidi e mi hanno detto che devo essere preparato d'urgenza, perché è una carotide, quella di destra, chiusa a oltre l'85%. E dico, beh, se è così, è veramente un'urgenza. Comunque fammi vedere l'esame, leggo l'esame e confermo quello che lui mi diceva. Dico, vabbè, siccome è il mio mestiere, vieni da me in studio, ti faccio entrare così di sottobanco e ti do un'occhiata. Controllo qua la carotide. Sì, c'è, c'è quello che mi aspettavo che ci fosse, ma assolutamente non c'è uno stedio dell'85%. Mi dico, a questo punto hai un parere precedente. Notate che due anni prima lui aveva fatto un'altra ecografia e parlava di uno stedio del 50-55%. Gli dico, vabbè, comunque tu adesso hai sentito un parere di un medico, hai sentito il mio, devi prendergli un altro. Quindi cerca ancora di andare ad un'altra persona a farti fare questo esame. Non andare nel... vai nel grande mare, vai all'ospedale, il migliore che ci sia qui in zona, e senti cosa ti dicono. Lui va a fare l'esame e questa volta risulta che lui ha un'ostenosi intorno al 60%. Non è un'ostenosi che ha bisogno di essere operato. Però gli dicono, vabbè, però siccome c'è quell'esame precedente, non sappiamo, la placca forse non è una placca di quelle stabili, fibrocratifiche, ma solo fibrotiche, per cui magari è in aumento, per cui anche per noi ci potrebbe essere indicazione chirurgica. A mio parere quest'uomo subirà un intervento chirurgico inutile. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché noi abbiamo S-Drive, ma se non impariamo a usarlo, rischiamo di fare più dati di beneficio. Siete d'accordo? Siccome S-Drive poi dà dei quadri distinti, io ne ho scelto uno. E questo quadro che ho scelto io è quello che riguarda gli acidi grassi. E adesso comincerò un pochettino, molto brevemente, perché poi Giorgio dice sempre di restringere le nostre relazioni, e quindi tu cerchi di dire tante cose in poco spazio e dici magari delle fesserie. Mi piacerebbe che ogni volta che noi ci incontriamo a fare questi corsi di formazione, ci fosse uno di noi, uno di voi, che prende uno di questi aspetti di S-Drive e cerca di approfondirlo al massimo, perché solo così potremo trarne tutti i benefici possibili. Allora, perché secondo me gli acidi grassi sono importanti? Cercherò di dire adesso un attimino il perché, ma voglio farvi ancora un altro esempio. Venezia sta annegando. Ci sono vari sistemi o vari tentativi che possiamo avere a disposizione per cercare di limitare questo problema di Venezia. Possiamo prendere dei sacchi e metterli contro le porte, contro le finestre, dove si pensa di poter fermare l'acqua, mettere dei ripari di qualsiasi tipo, ma possiamo anche veramente mettere in campo il famoso MOSE, cioè cercare di fermare l'acqua un po' prima. Ecco perché io adesso vi parlerò di una barriera, che è la parete cellulare, che è secondo me fondamentale nel prevenire quelle che sono le patologie cellulari, perché noi, ribadisco, siamo fatti di cellule e ogni nostra cellula ha l'intelligenza per fare tutto quello che facciamo tutti noi messi insieme. Quindi capire bene come funziona una cellula vuol dire capire bene come funzioniamo noi. E la cellula è fatta di tante cose, ma anche di una parete. La parete della cellula è una cosa fondamentale, è quella che probabilmente ha reso possibile la vita come noi la conosciamo, perché ha permesso di mettere una barriera fra l'interno della cellula e l'esterno, altrimenti non ci sarebbe la cellula. Quindi capite l'importanza fondamentale della membrana cellulare. Ma la membrana cellulare non è solo all'esterno della cellula, ci sono membrane cellulari anche all'interno, ci sono i mitocondri, di cui Giorgio ci ha ampiamente parlato, che ne ha due addirittura di membrane. C'è il Golgi, c'è il reciclo endoplasmatico, c'è il nucleo, il nucleo ha una membrana cellulare ed è importantissimo che questa membrana cellulare sia composta in un certo modo. Altrimenti, cosa succede? Succede che non c'è comunicazione, perché la vita richiede comunicazione, richiede movimento, richiede fluidità. Senza queste cose qua non si può pensare ad una vita sana, non si può pensare ad una vita equilibrata. Prima si parlava anche di neonati. Vi dico queste cose perché forse è più interessante per noi riuscire a capire l'importanza di quello che noi cerchiamo di extrapolare da questo strumento e da quello che diciamo in queste giornate. Allora voi tutti avrete sentito parlare ancora, qui c'è un esperto per cui magari adesso mi fa tacere immediatamente, dalla depressione postpartum. Ma perché viene la depressione postpartum? Ve lo siete mai chiesto? Siete chiesto o no? No. E il modo migliore per non cercare risposte è quello di non farsi domande. Allora probabilmente, voi capite bene che un bambino a due anni ha un cervello che pesa circa un chilo. È tutta questa roba che la madre ha dovuto investire sulla costruzione di un bambino. Dove è andata a prenderla? L'ha prenduta da se stessa. Quindi voi pensate a quante cose, quante sostanze ha dovuto la madre investire su questo nuovo nascituro e di cui lei si è privata. Io posso pensare, e ve lo dico, ed è la mia idea, bisogna vedere se poi è condivisa, che uno dei motivi per cui la madre, dopo il parto, può andare incontro a fenomeni come la depressione è perché lei ha tolto dalla propria membrana cellulare, dei propri neuroni, troppe sostanze necessarie a costruire il cervello del bambino e il corpo del bambino, e lei non è riuscita a recuperarle e a reimmettere nel proprio organismo. D'accordo? Quindi capite com'è importante riuscire a creare le condizioni perché noi si possa vivere con una membrana cellulare, con delle membrane cellulari che siano adeguate alla salute e al benessere. Allora, adesso provo a venire veramente al pratico. Vado molto veloce, se no poi devo fermarmi. Allora, gli acidi grassi, perché sono importanti? Queste sono quattro funzioni, che sono probabilmente le funzioni fondamentali degli acidi grassi. Ve ne parlo molto velocemente. Fonte di energia, lo sapete benissimo, un grammo di acido grasso riesce a creare più del doppio delle calorie che possono creare, bruciare un grammo di zucchero, di glucosio o un grammo di proteine. Per cui è veramente una fonte di energia molto importante per il nostro corpo. Tant'è che muscoli e cuore, per esempio, riescono a lavorare soltanto utilizzando questo tipo di energia. Il cervello no. Il cervello non è capace. Non è capace per un motivo che poi vedremo dopo, che cioè il fatto che gli acidi grassi non tolerano l'acqua. quindi richiedono un bel po' di tempo per essere impiegati e il cervello non ha questo tempo. Il cervello potrebbe utilizzare in certe occasioni i corpi ketonici, come voi sapete, ma solo per brevi periodi. Ruoli strutturali, ed è quello che vedremo. Cioè, la famosa composizione delle membrane cellulari, che è una cosa fondamentale per la vita. Precursione degli eicosanoidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli acidi grassi sono legati a doppia catena, ad un fenomeno fondamentale per la vita, che è l'infiammazione. Voi tutti sapete cos'è l'infiammazione. L'infiammazione non è una cosa negativa. L'infiammazione è quella che ci permette di vivere. Senza l'infiammazione noi moriremmo. Perché noi siamo programmati per rispondere a qualsiasi insulto esterno, che sia un virus, un batterio, una malattia allergica, autoimmune, un trauma, quello che volete voi, attraverso questo processo che è l'infiammazione. Ma l'infiammazione deve essere adeguata. non deve essere né troppa, né troppo poca. Deve essere adeguata. Quindi quando noi parliamo di infiammazione, parliamo di qualcosa che può essere modulato. D'accordo? Comunicatori specifici. Anche questa è una cosa molto importante e fa riferimento ai discorsi che facciamo noi sull'epigenetica. Voi lo sapete che se, magari riguarda soprattutto gli astanti di sesso femminile, se voi prima di andare al mare all'estate, e magari siete un po' in sovrappeso, vi prendete un po' di omega 3, lo sapete che dimagrite? Potete dimagrire. Ma come potrebbe dire uno? Io mi mangio i grassi e perdo i grassi e dimagrisco. È una contraddizione in termini. Invece no. Non è così. Perché noi sappiamo che l'assunzione di omega 3 ha la possibilità di comunicare con le cellule adipose. Perché ci sono dei recettori all'interno delle cellule adipose che ricevono questo messaggio e mangiano l'informazione al nucleo di dire creiamo la catena di lipolisi. Cioè andiamo a bruciare grasso. E quindi voi capite com'è possibile che attraverso l'assunzione di grassi noi comunichiamo alle cellule di bruciare il grasso. Se noi invece assumiamo acidi grassi saturi o acidi grassi trans, poi vi dirò un momentino che cosa significano queste parole, noi andiamo ad attivare nella cellula un altro recettore, P-Pars gamma, ma non più P-Pars alfa, il quale invece non dice bruciamo i grassi, dice no, stocchiamo i grassi, aumentiamo la riserva di grassi e quindi noi mangiando un certo tipo di grassi possiamo dimagrire, con un altro tipo di grassi possiamo invece ingrassare. Perché? Perché diamo un'informazione epigenetica che mette in moto delle vie di trascrizione diversi. Allora, voi sapete che cosa vuol dire acidi grasso saturo? Penso di sì. Chi è che lo dice? Dai, provate. Cosa vuol dire acidi grasso saturo? Ecco, vuol dire che non ci sono doppi legami. Vuol dire che ogni elettrone è legato a un atomo singolo e quindi non c'è messa in comunione di elettroni. Questo vuol dire l'acido grasso saturo. Monoinsaturo naturalmente vorrà dire che c'è un doppio legame e poiinsaturo vuol dire che ce ne sono di più. Sapete cosa vuol dire omega 3, omega 6, omega 9, omega 7? Ecco, la posizione. Alfa è il primo, omega è l'ultimo atomo di carbonio perché gli acidi grassi sono una lunga catena di idrogeno carbonata. L'ultimo atomo di carbonio è l'omega. Quando si dice un omega 3, per esempio, si parte dall'ultimo atomo di carbonio, si torna indietro. Quando si arriva al terzo atomo di carbonio e si dice che c'è il doppio legame, si dice che questo è un omega 3. Se si arriva al sesto atomo di carbonio e c'è il primo doppio legame, quello è un omega 6. D'accordo? Anche qui cerco di sintetizzare al massimo e non è facile, credetemi. Perché vi parlo di acidi grassi cis e trans? Allora, tutti gli acidi grassi nascono saturati e li produciamo noi, gli acidi grassi, cioè attraverso la placca girevole che è l'acetilcoenzima attraverso il quale passa tutto, passano gli acidi grassi, passano le proteine, passano gli zuccheri, noi produciamo quello che ci serve e tutti gli acidi grassi che noi produciamo li produciamo sotto questo aspetto, li produciamo come acidi grassi cis. E vedete come è fatto un acido grasso cis? hai due atomi di idrogeno con un doppio legame, tutti e due dalla stessa parte, per cui questo acido grasso, questa coda dell'acido grasso è una coda che si spezza, diventa storta. Ok? L'acido grasso trans, invece, è un acido grasso in cui i due atomi di idrogeno che mettono in comune gli elettroni sono invece da due parti diverse, sono alle due parti opposte, per cui la catena di idrogeno e carbonata ridiventa dritta. Sappiate che un acido grasso saturo è uguale a un acido grasso di questo tipo qua, cioè una catena dritta. Questo è un dato importante perché ci farà capire poi tante altre cose. Allora, vi faccio un esempio. Allora, acido oleico. L'acido oleico, voi lo sapete, è famosissimo in Italia perché noi produciamo olio d'oliva dappertutto, ma sappiate che l'olio d'oliva inteso come acido oleico, ce lo produciamo noi. Il nostro fegato fa tutto l'acido oleico di cui abbiamo bisogno. D'accordo? Quindi, non dobbiamo mai dire che l'olio d'oliva, per esempio, è un cibo estremamente sano per noi. Non contiene mai omega 3. Mai. Ok? Potrebbe contenere, acidi grassi saturi, acidi grassi saturi se non è di buonissima qualità. Se è buono come olio di oliva, perché contiene polifenoli o terpeni, che sono i famosi antiossidanti. Allora, c'è però di peggio. se noi prendiamo l'acido oleico e lo riscaldiamo, quando facciamo, per esempio, le patatine fritte, cosa succede? Succede che un 30-40% di questo acido oleico ci trasforma e diventa acido elaidico. L'acido elaidico, vedete com'è fatto? È un acido grasso, abbiamo visto prima, trans. Cioè, ha i due atomi di idrogeno nelle due parti opposte. Questo è un acido grasso terrificante per le nostre cellule. Ok? Perché si comporta esattamente, anzi, peggio di un acido grasso saturo. Quattro di noi. Queste, e questo è uno delle conseguenze a cui può andare in conto l'acido acetico. Se invece noi lo idrogeniamo, lo sottoponiamo a un altro fenomeno che è quello dell'idrogenazione, mi divento un acido grasso, ancora un'altra volta, come l'ostearico saturo. Questo vi fa capire come anche la trasformazione degli acido sia una cosa di cui noi dobbiamo tenere in considerazione. Perché se voi avete una membrana che contiene molti acidi grassi trans, sarebbe molto difficile riuscire in poco tempo a migliorare le condizioni di salute dei nostri pazienti. Perché si fa fatica a portare via gli acidi grassi trans. Ci vogliono settimane, ci vogliono 8, 10, 12 settimane per riuscire a liberarci da queste sostanze qua. Adesso vi voglio dire un'altra cosa, non ve le dico a vambare queste cose qua, ma perché poi servono a leggere il report. Vi parlo di questi enzimi. Uno soprattutto a delta 6 desaturasi. A cosa serve a delta 6 desaturasi? Serve a prendere soprattutto i precursori degli omega 3 e degli omega 6, però i precursori degli omega 6 l'acido linoleico e il precursore degli omega 3 l'alfa linoleico linoleico e trasformarli negli acidi grassi omega 3, omega 6 e omega 3 che a noi interessano tantissimo perché saranno quelli che poi ci interessano di più per quanto riguarda la regolazione dell'infiammazione. Allora vedete che se noi dovessimo avere una carenza di questi enzimi, anche le longasi e la delta 5 ma soprattutto la delta 6 desaturasi che è l'enzima limitante, se noi abbiamo delle condizioni come l'ipertiroidismo, il diabete, la resistenza all'insulina, l'obesità, il cabagismo, lo stress e chi più ne ha più ne metta. Se siete appena nati o se siete troppo vecchi questo enzima qua funziona male? Non è un dato da poco, è un dato importantissimo. Quando noi usiamo S-Dry per fare, per tentare di dare una mano ai nostri pazienti dovremmo sapere che esiste la delta 6 desaturasi sennò non riusciamo a leggere S-Dry. Ok? Vado avanti. Dopo che ho cercato di dirvi queste cose qua, veniamo al discorso un pochettino della parete. Vi ho messo qua le... Ho cercato di raggruppare tutte le diapositive e metterevi quelle che secondo me potrebbero essere le più interessanti. Allora abbiamo detto che gli acidi grassi sono importanti perché costituiscono le membrane cellulari e voi le vedete qua le membrane cellulari. Allora vedete che gli acidi grassi si mettono su una doppia fila quando fanno la membrana cellulare dove le teste carbonate quelle che hanno riescono a stare a contatto con l'acqua si mettono all'esterno. le code idrogenocarbonate idrofobiche si mettono all'interno e viceversa dall'altra parte. Vedete? Allora e com'è che fanno a stare insieme queste code degli acidi grassi? Stanno insieme perché si è visto che per tenerle avvicinate fra di loro intervengono delle forze microgravitazionali che paragonabilissime a quelle che tengono insieme luna e terra. Ora voi capite queste forze dette forze di Van der Waals se le molecole se le code degli acidi grassi sono una vicino all'altra si sviluppano al massimo. D'accordo? Se voi prendete un acido grasso saturo e lo fate diventare insaturo attraverso la detta sede saturasi e lo fate piegare così vedete che metà dell'acido grasso perde il contatto con l'altro acido grasso cioè le forze di Van der Waals non esistono più. e questo a cosa porta? Porta la possibilità che non ci sia una compattezza fra le code degli acidi grassi ma ci sia quella che noi chiamiamo che è fondamentale per la vita la fluidità. Mi sono spiegato? e questo vi fa capire come sia importante che ci sia questa fluidità perché è importante allora è quello che vi dicevo adesso non ve lo ripeto è proprio lo stesso discorso stessa cosa e qui però lo vedete un pochettino meglio allora vedete una parete cellulare questa composta da acidi grassi saturi sono tutti vicini le forze sono molto vicine e una parete cellulare composta da acidi grassi invece dove la componente di acidi grassi polinsaturi è molto evidente c'è una diversità che salta all'occhio ok? e questo perché è importante uno direbbe che me ne frega a me se la parete è fluida o se la parete è rigida è importantissimo perché nella parete abbiamo i recettori si parlerà se sentirete parlare da tutti di recettori e quando noi usiamo soprattutto la terapia farmacologica nella medicina allopatica quella classica noi prendiamo dei farmaci dei componenti che vanno a colpire un enzima e per colpire un enzima c'è bisogno che il messaggio passi attraverso un recettore di membrana ma il recettore di membrana non è una cosa fissa guardate guardate cosa fa deve aprirsi ricevere qualcosa e portarlo verso l'interno guardate il recettore del glucosio il glut 4 deve aprirsi prendere il glucosio e portarlo dentro verso l'interno questo può avvenire in una membrana cellulare fluida non può avvenire in una membrana cellulare rigida quindi se voi siete carichi di acidi grassi saturi o di acidi grassi trans col cavolo che si mette il farmaco funziona non funzionerà mai e dicevamo ieri con un amico che voi avete visto ancora un depresso vero o qualcuno che ha una malattia simile a depressione a guarire con i farmaci io ne ho visti pochissimi ma perché? perché lo psichiatra non si chiede se c'è qualche motivo per cui il farmaco non funziona lui dà il farmaco il diabetologo cosa fa? se non funziona bene l'insulina perché se il dosaggio di insulina che io do non è sufficiente cosa fa? lui aumenta il dosaggio di insulina pensando che questo sia sufficiente a risolvere il problema ma non si chiede il motivo per cui magari quell'insulina che va a cercare a dire al recettore fa entrare il glucosio non riesce più ad agire perché il recettore non funziona perché la parete è rigida perché bisogna intervenire sulla parete per avere una buona efficacia dell'insulina la famosa sonda la famosa pompa sodio potassio guardate come deve fare è tutto un lavoro che deve fare deve prendere naturalmente il sodio portarlo dentro fare quello che deve fare e poi buttare fuori il deve buttare fuori il sodio e portare dentro il potassio ma per fare questo lavoro deve avere una membrana che gli permette di farlo se no lo farà molto di meno e quindi la persona che vi ritrovate di fronte avrà sicuramente molto meno energia e vado avanti il ricettore dell'insulina è la stessa cosa dicevamo prima fino all'inizio del secolo scorso il consumo pro capite di zucchero parlo di zucchero raffinato si aggirava intorno ai 7 kg all'anno parlo non al giorno 7 kg di zucchero all'anno sapete dove siamo arrivati? abbiamo superato i 70-80 kg ormai il pancreas si impazzisce non ci capisce più niente se poi oltre ad avere questo incremento di zucchero voi avete delle membrane cellulari rigide perché mangiate anche delle porcherie e quindi quando arriva l'insulina a dire al recettore fai entrare il glucosio il recettore non funziona bene non si muove è intrappolato nella membrana cellulare rigida voi capite bene che si va incontro a quella che viene chiamata la risistenza all'insulina invece di dare più insulina non avrebbe mica senso mettere a posto la membrana cellulare? vi sembra? l'ultimo capitolo allora acidi grassi e infiammazione allora qui si parla di altri iacosanoidi cosa sono gli iacosanoidi? gli iacosanoidi sono acidi grassi sono quelli che sottintengono sottintendono il famoso processo infiammatorio sono prostagrandine sono prostacicline sono trombossani sono leacotrieni otocoidi cioè sono tutta una serie di sostanti di acidi grassi ossidati che diventano quelle famose citochine infiammatorie di cui si sente tanto parlare quindi capite che parlando di acidi grassi che è una cosa che mi fa venire proprio sonno solo a sentirlo noi però andiamo a parare poi verso l'infiammazione andiamo a parlare di un processo che è veramente fondamentale per la nostra vita eccoli qua elencati ma ve l'ho appena detto non ve lo ripeto più notate che ogni volta che si parla di queste cose qua cioè di eicosanoidi cioè di sostanze che sottintendono l'infiammazione ci si mette in relazione con la membrana cellulare ok? non a caso perché l'abbiamo appena detto fino adesso ogni volta che c'è un insulto come vi dicevo prima che sia una malattia autoimmune che sia un virus un batterio un'allergia si mette in moto lo stesso rituale biochimico cosa vuol dire? vuol dire che c'è una carriola una specie di carriola che è un enzima è la fosfolipasia 2 ok? la quale cosa fa? la fosfolipasia 2 oltre a venire qua al nostro congresso di oggi entra nella membrana cellulare prende quello che deve prendere lo riporta nel citosol e inizia il processo di creazione della risposta infiammatoria ok? sono stato chiaro? lo sapete come funziona il cortisone? non è che vedo qualcuno che lo sa chi è che lo dice? quale processo? ecco il cortisone attraverso la produzione di un'altra sostanza che è la lipocortina blocca la fosfolipasia 2 quindi non stiamo parlando di cose che campate per aria parliamo di cose che avvengono nel nostro corpo e parliamo di cose che possono permettere se domani avete di fronte una persona che ha dei problemi di dargli delle risposte concrete di mandarlo fuori dal vostro studio con una certa soddisfazione per lui naturalmente e anche per noi salto perché se no non la finisco più allora ci sono tre acidi grassi per noi fondamentali per noi ci sono tre acidi grassi fondamentali ricordateli perché vengono fuori nel report se uno non ha capito questo discorso che ho fatto io anzi voi l'avete capito io sono troppo confuso per poterveli spiegare bene ci vorrebbe molto più tempo ma se noi non capiamo questa cosa qua non capiremo niente del report c'è un acido grasso questo si chiama come si chiama questo? e il cosa pentaenoico che è un omega tre ok? di omogamma linoledico che è un omega sei e l'acido arachidonico che è un omega sei questi sono quelli che sintetizzano i famosi eicosanoidi cioè che creano il processo infiammatorio se uno parla di infiammazione si riempie la bocca di infiammazione ma lo facciamo sempre mettiamo tutta l'infiammazione dappertutto l'infiammazione l'acidità l'infiammazione l'ipossia e non sa che questi tre acidi grassi sono alla base di questo processo allora vuol dire che ci manca qualcosa ai nostri pazienti ai nostri clienti chiamateli come volete non gliene frega niente se noi conosciamo la geografia perfetta dell'indocina gliene frega che noi sappiamo minimamente questi concetti di biochimica altrimenti il report è fatto per niente non serve a niente ma se invece sappiamo che esistono queste cose il report vi aiuta a individualizzare al massimo le prescrizioni i consigli e a indirizzare verso la salute il vostro paziente allora qui vi fa vedere la cascata come attraverso l'acido arachidonico vengano prodotti delle prostagrandine di un certo tipo mentre qui delle prostagrandine di un altro tipo perché sono due vie diverse dentro c'è i tre minuti va bene caro vado avanti allora gli enzimi che regolano la a parte la fosfolipasia 2 ci sono altri enzimi ci sono nel citosol le COX1 che sono costituzionalmente espresse e le COX2 cicloossigenasi 1 e cicloossigenasi 2 e adesso vi chiedo un'altra cosa i FANS cosa fanno? com'è che agiscono? bloccano proprio queste cose qua eh sia la COX1 che la COX2 ma la COX1 quella costituzionalmente espressa non mi dilungo non la finiamo più è quella che ci permette anche di proteggere di produrre il muco gastroresistente se voi lo bloccate vi viene la gastrite e l'ulcera è quello che permette di produrre la famosa giunzione stretta ok? che è quella che vi preserva dalla famosa l'ikigat è quella che regola il flusso sanguigno dei reni è quello che regola l'aggregazione piastrinica guardate quanti soldi hanno fatto con gli antiaggreganti piastrinici e cosa mi sanno gli antiaggreganti piastrinici? bloccano questa è anche questa ci sono anche dei farmaci contro soltanto la COX2 ma sono un po' pericolosi hanno fatto dei casini e lo sappiamo vedete che sono concetti che poi tornano nelle nostre vite sì è inutile che ve lo dica è evidente l'intensità della reazione infiammatoria è controllata dalle prostaglandine e le ecotrieni che scoperto abbiamo detto adesso voglio dirvi soltanto va bene ho cercato di dirvelo prima in qualche modo una cosa importantissima uno a un certo punto dirà ma allora quando l'infiammazione è cominciata quando è che si ferma? chi decide di fermarla? e la natura ha pensato anche a questo perché c'è una via particolare che è la via dei le ecotrieni allora da una parte ci sono il ciclo ossigenasi che producono quello che abbiamo detto prima dalle prostaglandine e le prostaglandine e i trombossani dall'altra c'è la via dei le ecotrieni i le ecotrieni queste due vie si attivano insieme tutte e due per questo è bellissima anche l'infiammazione perché nel momento stesso in cui parte parte anche l'impulso che dice no adesso dopo un certo punto ti devi fermare ok? la via dei le ecotrieni è quella che permette di produrre a un certo punto delle altre sostanze che si chiamano otocoidi che sono quelli che bloccano l'infiammazione le risolvine le neurotrofine cioè proprio sostanze che a un certo punto dicono basta stop l'infiammazione deve essere conclusa deve essere terminata e vedo di terminare anch'io perché se no non la finisco più allora l'indice omega 3 che cos'è? l'indice omega 3 è il rapporto all'interno di una membrana cellulare fra naturalmente gli omega 3 e tutti gli altri acidi grassi è un indice importante anche se l'S dry non ce lo dà ma è un indice fondamentale perché si è visto che è probabilmente il dato più sensibile nella previsione di malattie cardiovascolari della morte improvvisa più del colesterolo più della proteina c-reattiva e altrimenti molto più dei trigliceridi adesso io volevo vedere per finire un minuto se potevamo vedere un 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 l'ultimo report che ho fatto Giorgio lo puoi caricare e mi vai alla pagina 14 perché così proviamo a vedere cosa cosa non so se sono riuscito ma ho provato a dirvi quanto gli acidi grassi e non a caso chi ha inventato questo questo trabicolo ha inserito gli acidi grassi come una pagina importante non così a caso ma perché sapeva benissimo cosa stava facendo sapeva benissimo quanto gli acidi grassi siano importanti nel riuscire a dirigere in un senso o in un altro la nostra salute la nostra vita se è la pagina giusta ecco allora questo qui è un paziente che è venuto da poco anche Giorgio lo conosce e che aveva un sacco di problemi fisici vogliamo provare a interpretarlo insieme in base a quello che vi ho detto allora io provo velocissimo faccio faccio veramente veloce allora questo che cos'è l'acido linoleico cos'è l'acido linoleico ve lo ricordate è precursore di che cosa l'acido linoleico degli omega 6 allora report guardate che striscetta che fa cosa vuol dire secondo voi è quito oi qui torniamo un po' ai discorsi che facevamo prima cosa ci dice S-Drive è un discorso un pochettino complicato io cerco di farla breve se no ci sarebbe da parlare ancora per chissà quanto tempo se S-Drive non vi dice vi da una striscia così piccolina probabilmente vi sta dicendo guardate che qui non ci sono problemi io non rilevo problemi per me va tutto bene per me qui non ho messaggi particolari non ho interferenze particolari è una cosa tranquilla va bene così ma dall'acido linoleico cos'è che salta fuori quel famoso delta 6 di saturasi cos'è che produce non ve lo ricordate più eh perché ci vorrei oi Giorgio che fai allora vedete che qui c'è l'acido gamma linoleico lo vedete l'acido gamma linoleico è prodotto attraverso le famose elongasi la famosa delta 6 di saturasi delta 5 di saturasi a partire dall'acido cioè da questo salta fuori questo ma S-Drive ti dice guarda che questo qua però è qui c'è un problema qui io leggo che c'è qualcosa che non quadra qui stai attento perché questo qui non va questo veramente è il gamma linoleico a me avrebbe fatto più piacere che mi mettessero che mi mettessero il diomo gamma linoleico preferivo quello ma va bene anche questo S-Drive mi sta dicendo guarda che a passare da qui a qui c'è un problema grosso cioè la delta 6 di saturasi non funziona bene guarda che questo paziente ha dei problemi seri o è fumatore o è stressato o ha la tiroide che non funziona bene ok ragazzi e il cosa pentaenoico acido arachidonico docosa esenoico non mi dice è piccolino quindi vuol dire che questo qua sapete che il docosa esenoico è l'acido grasso più importante a livello neuronale della membrana interna dei mitocondri e della testa degli fermatozoi per cui capite ci sarebbe da fare discorsi lunghissimi comunque sia questo va bene l'acido arachidonico ha una fetta grossa e lei cosa pentaenoico è una fetta grossa cosa vorrà dire si sta dicendo guardate ragazzi che c'è un problema c'è un problema grosso come una casa l'acido arachidonico è il padre dell'infiammazione è quello che più di tutti produce le prostagrandine della serie 2 quelle però infiammatorie ok i trombosani ci siamo le prostacicline infiammatorie l'epa l'ecosa pentanoico è quello che stimola di più la via degli leocotrieni quelli che smorza l'infiammazione qui in questo caso abbiamo una persona che ha un arachidonico eccessivo troppo acido arachidonico troppo poco e icosa pentanoico ok e anche l'acido alfa cos'è l'acido alfa linolenico è il precursore degli omega 3 quindi questo ragazzo si trovava con precursore degli omega 3 carenti con acido arachidonico in eccesso con icosa pentanoico in difetto di fatto lui era in situazione iperinfiammatoria assoluta e con un sistema enzimatico che non funzionava bene se voi riuscite a una persona così a dargli delle indicazioni affinché lui attraverso l'alimentazione il corretto stile di vita riduca i suoi processi infiammatori se gli fate diminuire l'assunzione di acido arachidonico questo si ottiene solo cambiando la propria alimentazione non c'è farmaco integratore che tenga e gli fate aumentare l'assunzione di acosa pentanoico omega 3 o anche se volete del precursore dando una buona alimentazione una buona integrazione voi gli cambiate la vita ed S-Drive vi permette di farlo senza dover fare un miliardo di esami del sangue vi ringrazio